Buongiorno a tutti, oggi ripartiamo con i nostri programmi per quanto riguarda sempre il giardino foresta e con le emissioni. Tra un attimo faremo una pausa quindi approfitterò delle vostre domande. Se vi ricordate quello schema fatto vedere ieri all'inizio dove c'era uno di questi rami che era composto da tante ramificazioni che prevedevano tutti i componenti che venivano immessi. Però noi andiamo ad agire, io sempre cerco di dare un risvolto pratico, andiamo ad agire in un campo che magari è stato già interessato da coltivazioni, abbiamo già un frutteto e in questo caso abbiamo delle emissioni preesistenti, ad esempio un mandorleto, ad esempio un uliveto o un altro tipo di piante che sia stata messa nel nostro campo. La domanda potrebbe venire cosa faccio, tolgo tutto e rimetto il mio giardino foresta? No, si va a fare il giardino foresta negli spazi intermedi che si trovano in questi filari. Si cerca di occupare lo spazio intermedio, specialmente se il frutteto è ancora buono, se è ancora in buone condizioni, se è produttivo. L'intervento che noi andiamo a fare è quello al limite di sostituire, di eliminare le piante che sono arrivate a fine ciclo, le piante che sono più deperite, le piante che stanno ormai cadendo da sole. Se vogliamo accelerare, sempre per una questione di tempo, se vogliamo accelerare il processo di evoluzione verso un giardino, questo è un frutteto, trasformarlo in giardino ci vuole del tempo, se vogliamo velocizzare una pianta che sta per seccare viene tolta e viene sostituita con un'altra pianta, ma si possono fare tante cose. Ancora prima di togliere, molte di queste piante se sono innestate hanno un portinnesto, c'è un selvatico sotto, ancora robusto e vitale, per cui a volte è conveniente, si può provare, si può tentare di tagliarle a una certa altezza e aspettare qualche stagione, basta una stagione o due, vedere se ricaccia, perché se ricaccia significa che si rinnova quel portinnesto. Era la tecnica che ieri era stata detta da Gianluca a proposito degli aranci, avevano delle coltivazioni di aranci, di vecchie varietà, i mandarini Havana, quelli con i semi, erano stati tagliati alla base e reinnestati con le varietà moderne tipo clementine e quant'altro senza semi. Anche nei nostri fruttetti si può fare, con gli ulivi secolari come questi no, è più complesso, un albero del genere non conviene, non si può reinestare, non è pensabile, piuttosto è meglio conservarlo così. Gli ulivi grandi di questo tipo se sono a macchia o se sono in fila come in quel modo spesso hanno degli spazi abbastanza sufficienti tutti intorno, in quegli spazi sufficienti tutti intorno si può intervenire. Però da fare attenzione, vicino a un ulivo del genere, se lo vogliamo conservare non si andrà a prendere una pianta di noce pecan o un noce comune o qualche altro grosso albero, perché questo albero qui è già quello della volta e dello strato più alto della nostra foresta giardino. Non ci devono essere altri alberi che vanno a fare concorrenza di luce con lui, che vanno a prendere il sopravvento, altrimenti lo coprono e rischiano di farlo deperire. Ancora, andiamo avanti. Cosa si potrebbe aggiungere in delle situazioni come quelle? Certamente un vigneto a pergolato, un vigneto a tendone è più complicato, lì la copertura è già al 100%, ci sono le piante di vite e andare a fare un giardino foresta là sotto si potrebbe trovare un sistema, si potrebbe scogitare un sistema come avevo detto all'inizio a proposito delle piante che crescono sotto i faggi, cioè coltivare qualcosa sotto le viti durante il periodo di riposo della vite. Quindi ciclo autunnale, invernale, primaverile. In questo modo si possono coltivare degli ortaggi più che altro, ma non si può andare a insistere troppo perché la copertura, ripeto, è totale. Cosa si può aggiungere? Una pianta che si può aggiungere è questo, il pero selvatico, uno dei tanti peri selvatici, anzi questo qua si chiama a volte anche perastro o pero selvatico. Il nome scientifico è Pyrus amigdaliformis, cioè con la foglia a forma di amigdala, di mandorla, perché il vero pero selvatico ha una foglia a forma di cuore, quasi come il pero domestico. Però il pero selvatico vive in montagna, questo qua invece vive dal riva del mare fino a 6-700 metri, a seconda delle esposizioni. È un ottimo portainnesto per i peri in ambienti aridi. Ci piacciono gli alberi di peri, vogliamo piantare il pero, non compriamo le piantine solite che sono innestate sui porti innesti deboli. Addirittura il pero in commercio è innestato sul melocotogno. Il melocotogno non è neanche moltiplicato da seme, moltiplicato per talea, si prende un rametto, si pianta, quel rametto già si comporta da rametto, cioè cresce poco, vegeta velocemente, produce molti frutti, però muore subito e soprattutto ha bisogno di cure, sempre le solite cure, le problematiche della manutenzione, zappature o comunque sfalcio continuo, forte competizione dell'erbacee, avrà perché ha una chioma molto bassa, l'apparato radicale non è profondo e quindi non va in profondità a cercare l'acqua, bisogna spesso minestrargliela, a meno che c'è uno strato di terreno più profondo. Invece il pero selvatico è anche sulle rocce, in Basilicata cresce nelle fiumare, le fiumare sono letti di fiume asciutto dove ci sono degli strati, degli spessori anche di 10-15 metri di ghiaia, sabbia e pietre, questa è la ghiaia, terreno umifero zero, al limite c'è un po' di limo, ma nel percentuale in donna 10%, il 90% tutte pietre e ghiaia e cresce questa pianta qua. E molte persone vanno a utilizzare queste piante come porta innesto, innestandole lì, nello stesso posto in cui si trovano. Questa è la pratica antica che dicevo ieri, che si faceva già da 2000 anni fa, innestare qualcosa di migliore per noi su una pianta che già si trova sul territorio, come l'esempio dei prugnoli che abbiamo visto ieri sera lungo i bordi dei campi. Come? Sì, bravo, sì, ma anche lungo gli affluenti del Sinni, tipo il San Nicola o il Frido, tutti gli affluenti interni dove non c'è molto di lavamento, dove la situazione è un po' stabilizzata, perché se passa l'acqua naturalmente non lascia crescere niente. Se dovessimo innestare in una situazione del genere comunque poi andrebbe innaffiata per poter ottenere una pera che si possa chiamare pera? Sì, altra risposta successiva. Andrebbe innaffiata se noi la sopra innestiamo e vogliamo ottenere delle pere di grosse dimensioni, tipo le Kaiser, la Batefetel, tutte queste pere moderne di grosse dimensioni. In realtà la strategia per evitare l'irrigazione è quella di innestare le antiche varietà che sono di dimensioni medie o piccole, pere che sono di queste dimensioni o così, sono più piccole di quelle coltivate. Essendo più piccole riescono a ingrossare e produrre frutti senza bisogno di irrigazione. E anche perché hanno un ciclo estivo, spesso queste pere a cui mi riferisco sono pere che maturano in estate prima che completa la disidratazione del suolo. Invece le pere che noi troviamo in commercio, a parte pochissime varietà, la maggior parte sono pere che si conservano durante l'autunno e l'inverno. Allora hanno bisogno di ingrossare e crescere tutta l'estate per essere raccolte in autunno. Invece le antiche varietà di pere maturavano tra giugno, luglio e agosto. All'agosto già cominciavano a finire, poi non c'erano più. Poi c'erano le varietà invernali che però vanno innestate e utilizzate dove il terreno è più fresco e naturale. Bisogna considerare questo parametro, è importante quello che dice Alberto, perché non si può innestare un periodo di grosse dimensioni su un selvatico che sta sulle rocce. Si avranno spesso scarsi risultati, insomma, compromettenti risultati quelli che sono. Invece se si va ad innestare giù in una valle, in un punto di accumulo dove c'è più umidità, si avranno degli ottimi risultati. I contro, perché dice questo non si usa in agricoltura? Allora, quelli erano i pro, adesso vi dico i contro. I contro dell'innesto di questa pianta è che non fruttifica subito l'innesto, non a tre anni, ma a cinque o sei anni, quindi abbiamo già un tempio un po' più lungo. L'altro contro è che come vedete la buccia del frutto domestico? Allora, vedete la buccia è molto rugosa, è spessa, non è attaccata dagli insetti, allo stesso modo conferisce al frutto gentile, al frutto domestico che noi andiamo a innestare, una buccia un po' più spessa. È un problema relativo, per il mercato è una tragedia, ma per noi non è un grosso problema, si sbuccia, si toglie, poi è solo un po' più croccante. Ma quella buccia un po' più spessa ci serve per proteggere questo frutto dall'attacco degli insetti. E ritorniamo sempre alle nostre solite problematiche, cioè avere qualche cosa che sia autosufficiente, autoproduttivo e che ci limiti negli interventi. Quindi le vecchie varietà di pero hanno una buccia un po' più spessa, frutti piccolini, però vi assicuro sono dolcissime, alcune varietà sono così dolci che si possono usare per essere essiccate e farne frutta secca. Se conviene innestarlo completamente o lasciare una parte selvata? Ecco, sì, altra domanda importantissima. Quando si deve innestare un albero la tecnica migliore è innestarlo completamente, perché ciò che noi andiamo a mettere sull'albero è una forzatura, anche se pero selvatico e pero domestico sono la stessa specie, lo stesso genere e la stessa specie, ma varietà diverse. Quindi sono proprio fratelli sanguinei, però però c'è sempre un limite di disaffinità. Il selvatico tende a conservare ciò che è suo e non accetta di buon grado l'innesto. L'innesto è una forzatura, è una forzatura anche un po' traumatica, anche un po' brutta e per questo motivo andrebbe fatto quando la pianta è giovane e piccola e a livello del suolo. L'innesto più si fa in basso è meglio e per un migliore equilibrio della pianta accetta un po' di più, accetta un po' più volentieri la parte che viene innestata. Innestarne solo una parte significa che si avrà questo problema, significa che dopo un po' di tempo il selvatico ricresce più velocemente della parte domestica, la ricopre, l'avvolge e poi la elimina, la fa seccare. È molto difficile dire che riesce a convivere per alcuni anni. Capita in alcuni casi la convivenza quando il selvatico è una pianta molto vecchia, molto avanti con gli anni. Allora una pianta avanti con gli anni se gli viene innestato un ramo non lo ricopre più perché ha finito il suo ciclo, non è più vigorosa, non è più in crescita, ma una pianta è come quella in figura, è una pianta giovanissima, può avere 20 anni. Considerate che quest'albero vive 100-150 anni, quindi l'eventuale pero che si mette sopra potrebbe vivere e ci sono casi, ci sono esempi di piante di peri di 150 anni che diventano enormi, quasi come delle piccole querce. Sull'appennino ancora si trovano di queste varietà, dove l'agricoltura non è stata intensiva, dove i campi sono stati abbandonati prima dell'arrivo dei trattori, sono rimaste queste piante, sono rimaste quelle che poi abbiamo, anche io personalmente ho recuperato le varietà andandole a cercare in posti sperduti dove c'erano i rovi intorno, che ormai i prati erano diventati cespugli e questi alberi erano rimasti in mezzo ai cespugli isolati di qua e di là. E solo gli anziani si ricordavano che da giovani lì c'era un pero che faceva dei frutti in certo modo con qualità organolettiche particolari. A volte si conosce la storia di queste antiche varietà ma non si riescono a trovare più i frutti perché già si sono estinti ed erano spesso varietà locali, quindi le trovavi in un posto e poi in un altro posto non c'erano. Oppure, cosa strana, erano diffuse su tutta l'Italia, però ogni posto aveva il suo nome e allora a me è capitato di innestare lo stesso melo con 3-4 nomi ma era una sola specie. Altra pianta interessante, sempre questione di gusti, è sorbo domestico. È una pianta che cresce bene, anche in Puglia vuole un po' di substrato naturale, non ha bisogno di tante coltivazioni, non ha bisogno quasi di niente, solo un po' di aiuto all'inizio per farlo sollevare e diventare più alto dell'erba e poi cresce e fruttifica tranquillamente. Se si ha la possibilità di trovare una pianta già innestata produce dei frutti anche grossi così come una piccola mela e viene un po' più piccola di taglia. Invece se non è innestato, se si pianta quest'albero da seme, l'albero diventa un po' più grande e comincia ad entrare fruttificazione un po' più tardi. Un po' più grande, prima significa sempre, anziché 3 anni, 7-8. Il sorbo a volte anche 9 o 10 se il terreno è un po' difficile. La taglia grande o piccola significa piccola 4 metri, quello innestato. 10-12, quello selvatico. La chioma? Ah, questa pianta qui cresce, è una pianta abbastanza plastica, questa comincia da sopra la lecceta, quindi da dove sono le roverelle, ok? L'areale delle roverelle fino a spingersi al reale del cerro, quindi dovrebbe essere tra i 300-350 ai 700 metri, a seconda sempre dei versanti, perché un versante esposto a sud a 350 non c'è, ma se è esposto a nord c'è. Quindi la roverella, dove c'è la roverella va bene anche questa pianta qui. Sì, il sorbo è una rosacea, è parente con i mele e con i peri, tecnicamente si potrebbe usare, però non ha grandi affinità, si creano delle strozzature nel punto di innesto, anzi addirittura è lui stesso che viene innestato sul cotogno, per farne dei piccoli alberelli che diventano quasi arbusti a questo punto, quindi se sul cotogno va bene, sorbo sul cotogno va bene, e si produce dei piccoli alberelli da utilizzare in piccoli spazi. Quello che chiamiamo, visto che l'abbiamo tirato in mezzo, il melo cotogno, in realtà non è una pianta dello stesso genere dei meli, il melo si chiama malus, il pero è pirus, questo è sorbus, domestica, il cotogno è sidonia, o sidonia secondo come la si vuole legge, comunque è scritto C-Y-D-O-N-I-A, sidonia oblonga, è proprio un altro genere, e nonostante si chiama melo cotogno, ha affinità con il pero, con il sorbo, con il nespolo e non ha affinità con il melo, il melo sul melo cotogno va male, tranne pochissime varietà, ma va male, a volte non attecchisce nemmeno. Altra pianta interessante, piccole dimensioni, molto rustica anche questa, perché il cachi, il cachi ne esistono principalmente due varietà, poi ci sono tutte le diramazioni delle altre sottovarietà che escono ogni giorno, il cachi quello all'appante, i frutti grossi, e il cachi vaniglia con i frutti un po' più piccoli. Il cachi vaniglia con i frutti un po' più piccoli è innestato su un portinnesto selvatico, che praticamente è un cachi selvatico che viene dalla Virginia, degli Stati Uniti, e produce dei frutti piccoli così, come una ciliegia, molto all'appante. Ma la cosa interessante è che se voi comprate, ecco questa è una pianta che si può comprare, cachi vaniglia, sempre la solta storia, un rivenditore di fiducia che vi dia un cachi vaniglia vero, è innestato su un portinnesto quindi molto vigoroso, molto rustico, molto resistente. Va bene anche per questi terreni. È una pianta che può crescere da noi. L'altro, il cachi all'appante, invece, è innestato su un portinnesto sempre rustico, ma un po' più, già un po' più delicato, perché produce dei frutti più grossi tra l'altro. E quando vedete frutti grossi, cominciate sempre a pensare, frutto grosso, terreno spesso, di profondità, non su roccia. Invece questo qui, già anche in un liveto diradato, in una condizione un po' più rustica, se la cava, sempre previo aiuto di due o tre anni dopo l'impianto. E si possono avere questi frutti, insomma, che a chi piacciono sono di buona qualità e maturano in un periodo autunnale-invernale. Se non ci va la drosofila a deporre le uova e a creare problemi, è tutto quello che non consegue. Questo è un frutto che si potrebbe, e tecnicamente si può conservare fino a marzo, in una zona al fresco oppure in frigorifero. Però lo si raccoglie quando è acerbo, cioè come nella figura in alto a sinistra, in questa condizione qua. Raccogliendolo in questa condizione si può conservare a lungo durante l'inverno. Una volta che è maturato, poi la maturazione va velocemente avanti, è difficile contenerla. Cacchimela o cacchivaniglia, è proprio quello là, è lo stesso. Allora, cacchimela o cacchivaniglia è la stessa cosa, cioè sono dei cachi che sono già dolci nel momento in cui sono verdi e acerbi come questo qui. E' che sono due giorni che mi stanno chiamando e purtroppo quando chiamo io non ci sono, poi quando io sono impegnato mi chiamano. E' un numero che non so chi è, ma... La drosofila, allora sì, la drosofila, allora prima cosa, eliminare tutti i frutti che cadono a terra, ci ritorniamo a terra, sì, drosofila, drosofila o mosca della frutta, poi lei c'ha tante varianti, parenti, affini, specie e sottospecie, per cui non è un solo insetto, ma ci sono tante specie di insetti affini alla drosofila della frutta che fanno lo stesso servizio, depongono un uovo. Appena il frutto viene forato da un buco di dimensioni di micron che non è visibile ad occhio nudo, tanto è piccolo il buco dove viene deposto l'uovo, comincia a maturare. Perché il frutto una volta che... avete presente i kiwi, i kiwi per farli maturare velocemente basta pungerli con una forchetta. Se li pungete con una forchetta maturano, diventano morbidi, morbidi in giro di pochi giorni. L'insetto fa la stessa cosa sia sull'albero sia a terra. Infatti quando si raccoglie la frutta non deve subire urti, non deve subire ammaccamenti, perché se subisce un ammaccamento o un urto comincia a innescarsi subito il processo di maturazione. Che tra l'altro il processo di maturazione all'urto che ha avuto la frutta è un sistema di difesa, perché se la frutta subisce un foro, un'ammaccatura, dovrebbe marcire. Allora cosa fa? Anziché marcire, matura. L'insetto depone quest'uovo, l'uovo comincia a svilupparsi e quindi deve mangiare. La frutta matura fa da cibo e quindi la larva si nutre del frutto maturo. Intanto che la larva cresce, il frutto matura e cade a terra. Rimane a terra, rimane nel substrato, quel bel substrato che dicevo con le foglie o con il prato come là sotto, e continua il suo ciclo. Rimane nel terreno, se fa caldo, completa il ciclo, fa la metamorfosi e diventa un'altra volta in zeta adulto, trova qualche compagno, si accoppia e va a deporre altre uova. E ti fa questo ciclo nel giro di una stagione anche due, tre, quattro volte a seconda della temperatura. Se arriva il freddo rimane l'uovo nel terreno e aspetta l'anno prossimo per fare lo stesso servizio. Quindi tutta la frutta che cade a terra va raccolta. Se non la si può raccogliere andrebbe fatta a mangiare gli animali, tipo galline, pascolanti sotto o qualcuno insomma che mangi anche le larve. Non va bene per esempio la pecora, perché la pecora mangia il frutto, ma la larva non la mangerà, è piccolissima, rimane lì. Le oche andrebbero bene, andrebbero benissimo le oche, le papere e quant'altro, perché loro hanno un sistema boccale con cui riescono a prendere anche piccoli vermuzzelli e acchiappano piccolissime porzioni di cibo. Sì, infatti nei frutteti questo problema viene combattuto con gli antiparassitari, anche se cade la frutta a terra e marcisce, poi basta mettere una bella passata di insetticida e viene sterilizzato il tutto. Pratico, veloce e quasi pure economico, ma aggiungo schifoso. Nel nostro piccolo fruttete invece ci vuole manutenzione, con tutti i tipi di frutta non va lasciata sotto. Oltre gli insetti che si riproducono ci sono anche le malattie all'interno della frutta che è maturata ed è caduta a terra. Noi con un albero da frutta, anche se un albero ricco di frutta come questi qua in figura, come questi cachi, è come se facessimo un campo di concentramento, di malattie, di insetti, attiriamo tutti quanti lì. Sempre per il fatto che abbiamo tanti frutti di buona qualità, grossi, che in natura non esisterebbero. I cachi selvatici, vi ripeto, ha dei frutti piccoli come una ciliegia, aspri e amari. Anche per le arance, sì. Le arance mi pare non abbiano insetti ma potrebbero avere muffe. Le muffe è un altro fattore da considerare. Sì, 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 col fuoco è un sistema estremo ma sicuramente è meglio eliminarle col fuoco che lasciarle là a riprodursi e a fare il loro ciclo perché se no alleviamo a finire che alleviamo insetti e muffe. Nella compostiera non è tanto vantaggioso perché completano il loro ciclo. Già le muffe e i funghi, alcuni virosi, nella compostiera con la fermentazione vengono bloccati. Ma alcuni insetti invece gli facciamo un favore perché diventano incubatrice. Sì, se si ha la possibilità di avere una grossa buca, ma la buca significa profonda almeno 50-60 cm. Magari sarebbe ideale scavare una buca 60 cm, metterci questa frutta marcia, coprirla col terreno, lasciarla sotto in profondità, coprire però tutto fino al livello del suolo e poi segnare con un bastoncino. Tra un anno, tra due anni, lì in quel punto ci si va a piantare un albero. Quindi è come se avessimo interrato del materiale organico perché l'abbiamo preparato per essere riutilizzato. Però piuttosto profonda perché 10-15 cm se ne esce un'altra volta. E le muffe, le muffe e anche le virosi e quant'altro. Questa tecnica di togliere la frutta sotto è indispensabile per evitare che restano lì malattie e potenziali simili. Quando cadono i frutti, sullo stesso albero ci può essere un frutto malato, uno attaccato dall'insetto, uno con una muffa e se ogni anno li lasci là sotto ne fai una concentrazione, li continui a coltivare. La solarizzazione può essere utile. Tu dici con il microfono. Dicevi la solarizzazione, la solarizzazione col telo di plastica, sì, può essere utile. E senza telo di plastica? Cioè solo spostarli nelle zone dove batte spesso il sole? No, hanno la capacità di fermare il loro ciclo. Le muffe, i funghi e i batteri si chiudono come se si mettessero in un guscio che li protegge dalla disidratazione, dall'eccesso di calore e di umidità e quindi restano là fermi in uno stato latente e appena avranno un po' di umidità, la prima pioggia, riprendono il ciclo. Ma è grave, è una cosa indispensabile questa operazione perché è costosa dal punto di vista di impegno fisico, andare a raccogliere i frutti. Sì, è costoso. Anche per me, che io ho tante piante da frutta, diventa un problema enorme ed è molto complicato. Io con tre piante di melo cotogno ho fatto una diffusione e una coltivazione di muffe, la muffa grigia del melo cotogno, che all'inizio ho colpito una sola pianta. Poi non ho fatto in tempo a togliere i frutti da sotto, sapevo queste cose ma non ho fatto in tempo perché quello schema che riguardava la manutenzione, vi assicuro che è complicato. Il non intervenire assolutamente e aspettare che la natura vada in equilibrio richiede tempi molto lunghi e alla fine io in questi tempi molto lunghi ancora non sono arrivato al punto di equilibrio, sono arrivato al punto in cui da un melo cotogno pieno di muffe e adesso ne ho tre pieni di muffe. Spero che si inneschi un equilibrio però intanto comunque... Quindi professore anche portare da casa gli scarti del cibo e lasciarli così senza compostarli non è conveniente? No se sono scarti della stessa natura, se hai agrumi non conviene portare scarti di agrumi perché anche i rami tagliati dalle potature devono essere in qualche modo eliminati o sistemati o interrati o messi in compostiera o triturati perché tu sai che anche i rami delle potature non possono essere lasciati a terra perché possono essere motivo di infezione per le piante sane che stanno nei dintorni e purtroppo questo è un grosso brutto affare perché comporta molta manutenzione. Monocoltour sì, sempre riferito all'aranceto. Diceva Alberto se si immagina? Se invece dovesse essere una situazione di biodiversità, un garden forest, è conveniente sempre toglierli per evitare che ritornano sulla stessa pianta. La frutta terra... In quel caso però tutti. Sì, tutto ciò che cade va eliminato. Addirittura per esempio... Come? Si è malato. No, si è malato. Sì, di solito il frutto cade quando è maturo ma una volta che è andato giù a terra ed è maturo il frutto maturo viene attaccato dai microorganismi dei compositori. Tra questi microorganismi ci possono essere delle muffe che non si accontentano di stare al suolo ma l'anno dopo andranno ad attaccare i frutti prima che maturano sull'albero. Questo è il problema. Nel concetto di giardino foresta, no? Mica nella foresta si vanno a togliere i frutti in eccesso quelli che sono stati... Esatto, non si vanno a togliere i frutti in eccesso perché sono frutti di piccole quantità, di piccole dimensioni e in piccole quantità. Il nostro albero, questo qui, non è un albero della foresta perché fa dei frutti enormi e di grandi quantitativi. Un albero selvatico, hai fatto una domanda molto pertinente e mi fa piacere Gianluca, perché un albero selvatico fa piccoli frutti che soprattutto, un'altra cosa importante, maturano in modo scalare. Il nostro albero da frutta te li matura tutti quanti nel giro di pochi giorni o al massimo qualche settimana. E ritorniamo sempre al problema della concentrazione. Grandi quantitativi di vitamine, di zuccheri a disposizione di tutti chiunque passa. È la dose che fa il veleno. Sì, è la dose, è il quantitativo che fa la differenza. Per quanto riguarda la mosca dell'ulivo, quando cade con i primi frutti e vanno a finire a terra, anche quelli diventano un motivo di incubazione per la mosca dell'ulivo che verrà l'anno prossimo. Le olive sono un problema. Infatti, sotto gli olivi una volta pascolavano le pecore e le pecore mangiavano tutto e avevano risolto il problema. A che distanza la buca, scusate, eventualmente dagli alberi da frutta? A che distanza? A che distanza la... A che distanza la buca da... Dalle piante? Dalle piante. Eventualmente. Eventualmente, per esempio, per i nostri cachi qua o le arance o quant'altro, la buca basta che sia fuori dall'apparato radicale. Se l'albero ha una cioma di 4 metri, considerate altri 2-3 metri di sicurezza e poi oltre. Quindi se ha 4 metri fate 7, più altri 10 metri. In modo che non andiamo a intercettare le radici dell'albero stesso, sennò poi interiamo la frutta e rompiamo le radici. L'albero si può piantare anche l'anno dopo, dopo un anno, perché tanto la frutta va via velocemente. Ma tutto questo... Ragazzi, questo... Chi segue non riesce a capire a cosa sto rispondendo. C'è altre domande? Sì, dimmi. Sì, volevo capire se questo lavoro di interramento è necessario pure quando appunto ci sono animali, non ci sono recinzioni... No, se ci sono animali provvedono loro ad eliminare tutto ciò che cade a terra. Infatti i nostri animali domestici che si allevavano una volta provvedevano da soli ed erano animali adatti anche a questo scopo. Anzi, era un sistema per alimentarli in modo gratuito, perché eliminavano ciò che cadeva dagli alberi, noi prendevamo solo ciò che rimaneva sull'albero e quello che rimaneva a terra veniva riciclato dagli animali velocemente senza lasciarlo lì troppo tempo. Ecco perché nei sistemi di forest gardening si usano i polli. Questi polli da mettere in mezzo a questi giardini possono essere utili, sono indicati, perché i polli sono gli animali tra quelli più semplici da allevare che svolgono una funzione molto elevata. Non mangiano purtroppo le olive, le olive con la mosca dell'oliva, i polli non la beccano, non la mangiano, neanche le oche, neanche le papere, perché sono frutti aspri e non sono di loro gradimento. E per le olive resta il problema, ci vorrebbero un paio di pecore, però comunque è da considerare questo problema, che in un modo o nell'altro se tu hai un albero hai dei prodotti e devi sempre fare attenzione a controllare questi prodotti, questi vantaggi che tu ne devi trarre, dato che quello è un albero addomesticato, non è un albero selvatico ed essendo stato domesticato, è stato modificato col passare del tempo. Poi parleremo anche a proposito della modifica delle specie. Qui avanti. Ah vai, dimmi. Niente, io volevo fare un'osservazione di mezzo secolo riguardo gli alberi da frutta, cioè diciamo queste sono delle tecniche di intervenire, però noi dobbiamo sperare a una tecnica naturale, cioè in pratica in questo mezzo secolo c'è stato un aumento della temperatura e dell'umidità che ha condizionato anche la riproduzione degli insetti perché in pratica non venendo più le gelate si ha un aumento abnorme, dalla mia osservazione che da mezzo secolo c'è stato. La stessa modifica della frutta ha fatto proprio questo. Sui funghi, sugli insetti che sta danneggiando questo equilibrio naturale, cioè che prima era frenato dalla mano del gelo, che era una grazia, perché in quelle condizioni frenava questo problema, perciò dobbiamo sperare che l'abbassamento della temperatura avviene realmente. Sì, sì, questo sì è da considerare questo fattore perché la temperatura che ha aumentato ha permesso non solo la tropicalizzazione per noi di coltivare frutta tropicale, ma anche l'aumento degli insetti e delle muffe, che tra l'altro non avevo fatto in tempo a spiegare, muffe e funghi crescono benissimo con climi caldo-umidi e qui se abbiamo un po' di umidità e il calore ce n'è a sufficienza abbiamo fatto clima caldo-umido. Non avendo il freddo come sistema di bloccaggio contro queste problematiche si è avuto un enorme aumento di proliferazione degli insetti. Poco fa dicevo a proposito della drosofila che compie 2-3 cicli a seconda della temperatura. 20 anni fa da me a 400 metri sul livello del mare la drosofila non c'era e i cachi maturavano da dicembre a gennaio dopo averli raccolti e quando raccoglievamo le olive a novembre non c'era neanche un cachi da mangiare. Adesso, pensate alla catastrofe, tra virgolette, ma problematica, adesso i cachi maturano da settembre a novembre e quando raccogliamo le olive quasi sono finite, non ce ne sono più. Cioè si è anticipato di tre mesi e si è stravolto tutto perché la drosofila in quei tre mesi autunnali compie tantissimi cicli riproduttivi perché ha la temperatura dalla sua ed è arrivata a 400 metri sul livello del mare dove invece prima la temperatura era più bassa. Quindi adesso avere degli alberi che non siano attaccati alla drosofila bisognerebbe andare intorno agli 800, 900, forse 1000 metri, sempre a seconda delle esposizioni. È un fattore da considerare e non è una problematica di poco conto, quella del clima, perché non si riesce a regolare facilmente. Dimmi, posso? Sì, altra domanda? Vorrei sapere se qualcuno qui conosce bene il metodo per eliminare quella mosca della bottiglia di plastica o fatta a casa o particolare con la sarda fresca dentro. Io lo conosco perché so, ci sono delle persone che lo usano, ma non lo conosco abbastanza bene da spiegarlo. Se c'è qualcuno qui, non so se c'è Angelo o no. Non so se c'è qualcuno perché è un metodo che anch'io ho sentito ma non conosco. Piuttosto, a proposito della mosca, ci sono le famose trappole con ormoni. Beh, queste trappole con ormoni sono delle trappole innocue per noi e per l'ambiente perché sono specifiche, sono specie specifiche, si dicono. Cioè, catturano solo gli insetti di quelle determinate specie che noi vogliamo eliminare. Sono drastiche per la specie perché catturano tutti gli insetti che passano nel raggio d'azione di quegli ormoni. Però comunque servono a contenere il problema. Servono a contenere. Non si rischia l'estinzione. Io mi consolo, tra virgolette, con questo. Si ragione sempre in termini di numero e quantità di individui. Abbiamo un insetto, un animale. Quanti ce ne sono? Tanti o pochi? Se sono pochi un animale protetto, piccolo o grande che sia, anche se fosse un moscerino piccolissimo, ce ne sono pochi, allora conviene pure quasi allevarlo perché è biodiversità. Ma se ce ne sono tanti, come le mosche, le zanzare, le drosofile e quant'altro, e ne facciamo una grande catturata nel nostro giardino, non è un problema ambientale grave di cui preoccuparsi. Poi eliminare questi insetti con una trappola significa non danneggiare i predatori e tutti gli altri che stanno intorno, perché non sono animali avvelenati come il diserbante o come gli insetticidi che poi i passeri e gli altri uccelli li catturano mentre stanno morendo. No, restano spiaccicati nel trappola, pure cadono in questa soluzione che diceva Anna Maria, finiscono lì e finisce la storia. È un sistema di controllo perché abbiamo fatto un ecosistema artificiale e come tale va controllato. Quindi, sì, ti passo il microfono. Vai. Io non sono esperto di queste trappole, però le ho comprato TapTrap, un tappo che si mette sulla bottiglia e consente l'entrata ma non più l'uscita. Su internet si trova il sito di questo tappo e ci sono le spiegazioni per i vari tipi di insetti, cosa mettere nella bottiglia, eccetera. Anche la sarda, l'alice salata. No, non salata, fresca, messa in acqua e insomma non me lo ricordo bene. Naturalmente è un sistema che può essere usato sia nei grandi frutteti ma sia a livello artigianale ma anche questo ha dei pro e dei contro. I contro sono che bisogna fare attenzione al momento in cui si va ad applicare. Non è facile vedere quando questi insetti stanno volando e vanno a deporre sulla nostra frutta. Se la temperatura, se il momento in cui andiamo a mettere la trappola, la temperatura improvvisamente scende e l'insetto si ferma, non vola, resta latente, nascosto sotto le cortecce, sotto le foglie, sotto l'erba da qualche parte e aspetta il momento favorevole. Può succedere, anche in estate scende un po' la temperatura e gli insetti non volano. Gli insetti con temperature basse non possono volare proprio per una loro funzione fisiologica. Quindi noi mettiamo la trappola, non vola niente, intanto gli ormoni evaporano, poi l'insetto vola e non ha fatto effetto la trappola. Potrebbe succedere questo. Sono le problematiche da fare attenzione e da considerare con l'esperienza. perché alcuni ormoni hanno delle tabelle che danno anche i valori di riferimento e le temperature con cui possono essere applicate e i periodi indicativi. Ritorniamo sempre a quelle famose cartine di ieri. Clima, altitudine, vento, piovosità. Sono fattori che vanno a modificare continuamente il nostro ambiente. Quest'anno proprio hanno messo in commercio, hanno sperimentato nella zona di Metaponto che è proprio il top della Mosca perché anticipa caldo-umido vicino al mare, soprattutto su quelle varietà di agrumi che ho portato io e Satsuma Miyagawa. e hanno sperimentato delle trappole come cattura massale, non come monitoraggio. Sono consentite in agricoltura biologica, quindi funzionano benissimo. Non bisogna stare lì a vedere. Sono uscite proprio quest'anno. C'è stata la sperimentazione. Dall'anno prossimo saranno facilmente trovabili. E tra l'altro, per quanto riguarda capire qual è il periodo migliore per metterlo, anche per non rischiare che ce le vadano a rubare, che so più che altro, se ne volano, al vento, bisognerebbe tenere conto, secondo ognuno di due è alla zona, cioè memorizzare ogni anno qual è il periodo e anticipare dieci giorni, giusto per essere tranquilli. Grazie Gianluca che mi hai fatto ricordare un'altra cosa importante. Memorizzare nel nostro piccolo ecosistema, nel nostro piccolo giardino foresta, potrebbe essere utile avere un opuscolo, un calendario, un'agenda, dove si va a segnare la problematica e il periodo che questa problematica è venuta fuori e con la soluzione attuata. Perché questo? Anche io tento di farlo, ma non sempre ci riesce. Dico, vabbè, tanto mi ricordo che in questo periodo ho fatto questa determinata cosa. No, tra le mille cose della vita non ti ricorderai più qual è il periodo che hai fatto quella determinata azione. Quindi andrebbe segnato, specialmente se è un problema che lo prendiamo di punta e lo vogliamo risolvere. Va segnato, va marcato su un foglio, sul calendario, in modo che ci si ricorda bene il periodo e possibilmente marcare anche le condizioni del tempo. Stava piovendo, c'era il sole, c'era vento. Indicativamente, ma è importante. Va bene, non so se ho risposto a tutti. Ripartiamo. Altra pianta da considerare è il prugno, con tutte le decine e decine di varietà che esistono. Ho messo qui una varietà standard, commerciale. Questa qui a destra dovrebbe essere la Stanley, quella che vendono anche come prugne secche. E' una varietà moderna, ma relativamente, una varietà che credo esista da 50 anni e non è geneticamente modificata, nessun di quei problemi lì. E' una varietà ottenuta per incroci successivi e miglioramenti successivi e ha un vantaggio particolare, che è molto resistente questo frutto all'attacco degli insetti e delle muffe, in condizioni normali e soprattutto rimane sull'albero per tempi molto lunghi. Da me quest'anno è arrivato addirittura a conservarsi per tre mesi, agosto, settembre e quasi tutto ottobre. Poi le piogge l'hanno tirata giù, altrimenti ancora restava sull'albero. E in condizioni di clima caldo e siccitoso riesce ad appassire rimanendo sull'albero. Quindi non cascola velocemente e hai quel prodotto, quel tipo di frutta, per un periodo molto lungo. E' una delle tante varietà che esistono già in commercio e sono facili da reperire. Altra pianta interessante è il giuggiolo. Il giuggiolo ho portato qualche frutticino per farlo vedere. Ne ho anche altri, poi li proviamo. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è un giuggiolo antico, di condizioni e crescita naturale, senza una goccia d'acqua, in un terreno abbastanza asciutto come il vostro, anche pietroso, e ha un sapore molto dolce. Viene anche chiamato dattero del Mediterraneo, anche se questo non ha niente tanto con i datteri, perché è una dicotiledone. La famiglia è rammnace e non è una palma. Insomma, non è una palma. E' stato importato dalla Cina circa 300 anni fa, e lì era una pianta, un cespuglio selvatico, e spinoso tra l'altro. E subito dopo si è coltivato, visto che si andava bene in ambiente Mediterraneo, in ambiente Mediterraneo caldo e arido, va benissimo, albero di piccole dimensioni, sempre 3, massimo 4 metri dopo 20 anni, e quasi un arbusto nei primi anni, specialmente se lo si alleva a basso. E ci sono diverse varietà, ne sono uscite subito tante. Questo era un frutto che era stato portato, coltivato e utilizzato come frutta secca, si conserva tutto l'inverno, come frutta secca, come i fichi secchi e come i datteri. E naturalmente va raccolto prima delle piogge, in modo che sia bel asciutto e appassito. Subito sono state fatte le varietà, negli ultimi decenni, non so da dove sono partiti, con queste varietà, però le ho viste in commercio e hanno fatto delle varietà, pensate, grossi come una mela, di questo. Si chiama giuggiolo gigante, è così. Il sapore, l'ho assaggiato, è simile, va mangiato fresco quel frutto lì, quando è ancora croccante. E invece quando comincia ad appassire ha qualche problema, perché essendo troppo grosso viene attaccato facilmente dalle muffe. Invece il frutto piccolo si conserva di più, perché ha meno quantitativi di acqua all'interno. No, il giuggiolo no, non è parente con le rosacee, con i ciliegi, è parente con le ramnacee, che è una famiglia non tanto diffusa da noi. Anzi, come genere e specie c'è solo questo, perché è stato portato. Poi ce n'è un'altra, ma è selvatica, non produce frutti commestibili. Microfono? Sole, molto, pieno sole. Sì, è un arbusto, però ha bisogno, un arbusto piccolo albero, ma ha bisogno di pieno sole. Ma è rusticissimo. E qui adesso volevo fare un'altra delle mie tante parentesi. Cioè, noi vogliamo fare un giardino foresta, ma prima di fare questo giardino foresta dobbiamo anche riflettere su cosa vogliamo mangiare. Se vogliamo la nutella e le berendine e il mulino bianco, non si può fare il giardino foresto. Perché dovremo coltivare il cacao, ma qua non cresce ancora. Allora, i gusti alimentari non sono facili da cambiare, me ne rendo conto. Però la cultura alimentare si può cominciare a parlarne, si può cominciare a ragionare, a chiedersi ma che sapore ha, assaggiamolo, vediamolo. Tutto quello che non abbiamo fatto da piccoli, cioè di assaggiare la enorme varietà e la enorme biodiversità di frutti che ci sono in circolazione da noi, lo possiamo fare da grandi, non c'è mai scadenza per questo. Cominciamo ad assaggiare e utilizzare questi frutti. Magari anziché mangiare delle caramelle per il mal di gola, si possono fare degli infusi, dei decotti con questo frutto. Veniva miscelato facendolo decotti con dei fichi secchi, delle prugne e qualche altra erba aromatica a seconda, come la camomilla, per esempio, se le successava la sera, con la menta per farne anche un dissetante. E quindi con questi infusi, questi sciroppi, ci si curava quando non c'erano le farmacie anche dentro i supermercati. e quindi il problema, ritorniamo, i nostri gusti e la nostra cultura alimentare è quella che ci dà lo sprint, l'energia per dire adesso mi coltivo queste piante e mi alimento queste piante che sono buone, sono utilizzate da millenni, sono secoli che stanno in giro e ci danno anche delle vitamine che forse evitiamo poi di raccattare con gli integratori minerali che tra l'altro gli integratori sono tutti di base sintetica non è che nell'integratore al mirtillo c'è il mirtillo dentro nell'integratore al mirtillo c'è un sentore di mirtillo estratto da sostanze chimiche Sì, volevo chiedersi se il giuggiolo a frutto piccolo e a frutto grande sono ugualmente resistenti ad avversità se sono selvatiche Sì, sono resistenti ugualmente ad avversità però quello a frutto grande è più sensibile alle prime piogge quindi se la zona o il punto in cui cresce dovesse essere interessato da pioggia va raccolto prima per un consumo fresco perché è più difficile conservarlo già essendo grosso ha un maggiore quantitativo d'acqua quindi non secca non si asciuga e non si conserva come quello piccolo e va consumato soltanto prima le esigenze della pianta sono le stesse magari un po' di umidità in più perché è il solito problema che se il frutto è grosso deve avere più umidità nel suolo il frutto piccolo addirittura ho visto intorno Matera cresce semi-spontaneo rinzelvatichito tra le fessure delle rocce intorno ai sassi un ambiente quasi pre-desertico e va bene fruttifica e va bene e un altro frutto che troveremo più avanti con le stesse caratteristiche di arido cultura il cappero nelle rocce e anche il melograno con le sue tante varietà che esistono ci sono melograni da fiore da frutto li vedremo tra un po' andiamo ancora più avanti eccolo qua un altro frutto antico dimenticato il sapore il sapore è molto simile a quello del sorbo e si chiama nespolo germanico perché la prima volta che è stato classificato come specie era stato osservato in Germania ma in realtà c'è anche in Italia questa è una pianta che in ambienti naturali in condizioni favorevoli è selvatica vive per fatti suoi nei boschi come uno dei tanti arbusti e cespugli che producono frutti naturalmente le dimensioni di quello selvatico sono più piccole questa in figura è un esemplare di un frutto già coltivato e ci sono di diverse dimensioni di diversi periodi di maturazione e di diverse qualità è un frutto particolare perché va raccolto acerbo e va sì mi sa che potrebbe essere anche qua intorno è un frutto che va raccolto acerbo e poi va fatto maturare in un cestino una volta si usava sulla paglia tenendolo in casa quando matura ha una fase di maturazione che si chiama ammezzimento ammezzisce l'ammezzimento ammezzire significa che questo frutto diventa da duro e bianco diventa morbido e marrone vi assicuro che anche quello selvatico sia selvatico che domestico infatti in condizioni naturali in bosco questo frutto rimane sull'albero finché è acerbo cade a terra ancora acerbo e continua la maturazione completa la maturazione al suolo l'ammezzimento è una fase un po' complessa per quando riguardano i gusti e la cultura alimentare perché il frutto sembra marcio è brutto da vedere vi assicuro però se ci fate la marmellata viene buona e non se ne accorge nessuno e prego il periodo migliore della raccolta dipende dai climi il periodo migliore per la raccolta ripeto io la domanda dipende dai climi dall'esposizione ma è intorno ottobre novembre quindi in autunno poco prima della caduta delle foglie ve ne accorgete quando le foglie cominciano a diventare gialle a cadere è anche quel momento di raccogliere frutti è anche perché ve ne accorgerete dato che qualche frutto comincia a cadere da solo quando cominciano a cadere da soli e sono integri cadono ma non sono malati si microfono microfono per favore dimmi no questo no infatti si questo perde le foglie in inverno in albero caducifoglie piccole dimensioni assomiglia al nespolo del Giappone ma non lo è e la stessa famiglia però sono rosacee tanto che questo e il nespolo del Giappone possono essere innestati sul sorbo quello che ho detto prima sempre per no il nespolo giapponese è l'altro è quello giallo quello giallo con tre semi tre quattro semi grossi e che si sbuccia matura giugno questo matura in autunno inverno e siccome si assomigliano molto come stai dicendo sono stati chiamati tutti e due nespoli poi si è confuso e si è miscelato il tutto ma quello giapponese è l'altro è sempre verde che tra l'altro viene dalla fascia temperata del Giappone la temperata calda del Giappone dove le piante restano verdi tutto l'anno è una foglia un po' cerata e coriacee ed è un sempre verde di clima caldo e cresce in ambienti piuttosto caldi il nespolo giapponese questo qui sull'appennino può crescere fino a 1500 metri anche di più è una pianta quasi di montagna invece il nespolo giapponese è una pianta della fascia dell'ulivo e degli agrumi sì 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 certo è una delle tante specie e varietà di frutti che erano coltivati una volta e sono stati poi dimenticati perché il commercio e l'economia non li ha considerati erano brutti diventavano neri sembravano marci scartati a priori sì 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 eh no tendono sempre a diventare scuri e la trasforma ragazzi forse ho dimenticato anche di dire la trasformazione della polpa di un frutto da bianca a nero si chiama ossidazione l'ossidazione è un processo naturale che avviene con l'aria con l'ossigeno gli zuccheri che sono là dentro non sono disponibili se non vengono se non vengono ad essere innescate delle reazioni per renderli disponibili nei frutti c'è l'acido malico l'acido malico è quella roba che noi sentiamo quando mangiamo un frutto acerbo ed è allappante ed è amaro come l'uva quando è acerba non so se l'avete mai assaggiato è ricca di acido malico l'acido malico a contatto dopo la raccolta che sta fermo è a contatto con la temperatura con l'ossigeno in una posizione tranquilla o sull'albero per certi frutti ha questo processo di maturazione o ossidazione avviene anche con i peri selvatici e molte antiche varietà di pero come anche il sorbo per essere dolci devono ammezzire devono avere questa trasformazione oggi è un fatto culturale quello di considerare frutto scuro uguale marcio perché la frutta moderna è bianca ma quella è una deviazione culturale altrimenti di varietà antiche ce ne erano tantissime tutte con frutta e con la polpa scura è una deviazione culturale ecco perché vi ripeto fare forest gardening richiede anche una predisposizione culturale a quello che poi vogliamo ottenere mangiare e coltivare sono frutti che richiedono poche energie poca manutenzione e poche cure non sono attaccati dagli insetti non hanno quasi nessun problema questo frutto è uno di quelli un po' più tra virgolette selvatici anche se viene innestato nelle grosse varietà e quant'altro e proprio anche perché non è così diffuso non ci sono piantagioni estensive o intensive di questa pianta non c'è stato modo di far diffondere malattie virose e quant'altro quindi si conserva bene cresce bene il problema è culturale io al momento non conosco se ci sono varietà polpa bianca ma so bene che finché la polpa è in parte bianca la maturazione non è completa però se lo si becca nel momento in cui ce n'è un 20-30% bianco e il resto è marrone già si può mangiare è abbastanza buono e dolce la polpa no è quella di cui stiamo parlando perché è quella che da bianca diventa marrone la polpa da bianca diventa marrone la parte esterna rimane pressoché dello stesso colore soltanto diventa un po' più scura infatti per vedere se è maturo si va a toccare quando è morbido è maturo sul nespolo del Giappone i sorbi o il nespolo germanico o l'azzeruolo che è un altro piccolo frutto però non di grandi qualità solo che ha qualche difficoltà perché il nespolo del Giappone non si presta bene ad accettare un'altra specie su se stesso tradizionalmente non lo si usa grazie però tecnicamente è possibile sono rosacee e sono abbastanza vicine dimmi c'è un fungo del nespolo che non fa maturare i frutti molto comune un fungo che non fa maturare credo che sia radicale una cosa che attacca le radici le radici nespolo del Giappone ah si anneriscono si allora il nespolo del Giappone ha un grosso problema quella è un fungo che attacca i frutti subito dopo l'allegagione appena cadono i fiori e lo attacca in condizione di elevata umidità e un minimo di temperatura come dicevamo per tutti i funghi quel problema lì può essere facilmente risolto se si è un po' testardi e si insiste con dei trattamenti a base di solfato di rame che non è il trattamento di solfato di rame andrebbe fatto preventivamente prima che l'albero fiorisca prima che si formano i fiori scusate poi prima che si formano i fiori quindi significa in fine estate prima che si formano i boccioli dei fiori va fatto questo trattamento e va disinfettata tutta la pianta perché questo fungo rimane come al solito latente sotto le foglie intorno alla corteccia sui rami dappertutto si fa un trattamento preventivo si lascia fiorire appena finita la fioritura quando sono caduti i petali si ripete ogni volta che si mette il solfato di rame bisogna considerare che ci siano almeno 3-4 giorni o una settimana senza pioggia perché se no viene dilavato il tutto e bisogna ripeterlo la pioggia considerate che annulla tutta l'operazione infatti nei vigneti è un lavoraccio da matti guardare il tempo e correre col solfato di rame sì qualche fissante che riesce a fissare il prodotto potrebbe andare bene infatti quella che si usava prima era la poltiglia bordolese solfato di rame calce zolfo e anche cenere a volte mettevano nelle misture contadine microfono microfono l'impollinazione allora l'impollinazione di questa pianta mi chiedeva per l'impollinazione se c'era bisogno di altri alberi le varietà più antiche a frutti più piccoli sono autoimpollinanti quindi lo stesso frutto e la stessa pianta è autosufficiente per le varietà moderne a frutti grossi potrebbe essere necessario mettere più piante della stessa specie per aumentare la quantità di polline perché è una selezione naturale che è stata fatta dall'uomo quella di ottenere frutti grossi ma non hanno guardato né il sapore né il quantitativo di polline perché si sono preoccupati dopo dicono tanto il sapore non fa niente perché rifilano da mangiare quello che capita e il polline glielo somministra chi lo fa a livello intensivo o mettendo degli impollinatori delle piante selvatiche che producono maggiore quantitativo di polline oppure con i soliti trattamenti ormonali e hanno risolto tutto e finalmente eccolo qua il meno grano c'era un problema che mi chiedeva qualcuno a proposito un melograno che non portava frutti io volevo far vedere se il fiore era molto simile a questo qua al centro lo vedete questo al centro questo qui è un fiore di un melograno selezionato solo per la produzione di fiori addirittura esiste anche di colore bianco rosa giallo ma frutti zero zero invece il melograno da frutto ha un fiore non ho trovato insomma non ho fatto in tempo a trovare le posizioni ha un fiore dove al centro qui è aperto il fiore questo fiore qua è ricco di petali tanti petali pochi pistilli pochi stami il fiore selvatico è aperto ha una corolla di fiori tutto intorno al centro è aperto dove c'è una produzione abbondante di polline quindi tutti gli organi di riproduzione dove gli insetti o il vento possono passare liberamente il melograno è un'altra pianta simpatica da coltivare perché può insomma soddisfare tutti i gusti c'è quello acidulo c'è quello dolcissimo c'è quello rosso e c'è quello più chiaro c'è quello di dimensioni enormi e quelli a frutti più piccoli c'è anche il melograno nano che può essere coltivato in vaso ed è dimensioni veramente contenute anche se quei frutti non hanno poi grandi valori alimentari è piuttosto ornamentale quello nano ma già l'albero di per sé non è un grande albero questo intorno a tre metri che raggiunge si può considerare un arbusto o un cespuglio pieno sole e terreno veramente minimo veramente essenziale tra le rocce basta una fetta di terra può crescere microfono lì per favore ah sì dimmi prima no volevo chiedersi quella solo da fiore se è mellifera o se è solo ornamentale no solo ornamentale non avendo organi di riproduzione il polline è veramente minimo misero e non è mellifero le funzioni specifiche che l'uomo le funzioni specifiche che l'uomo ha selezionato sono specifiche sono veramente specializzate solo fiori solo frutti grandi solo quello solo quell'altro quindi si è perso tutto il resto invece il fiore selvatico quello naturale aveva sempre una funzione a 360 gradi nutrire gli insetti nutrire se stesso assicurare la propria riproduzione nutrire pure qualcun altro che passava nei dintorni dimmi io ho all'interno di un oliveto con pochissimo suolo molto arido un po' di alberi di melograno sia all'interno dell'oliveto che sui muri a secco margini in primavera fanno molti fiori aperti con i pistilli tanto che nella scorsa primavera si sono poggiati anche dei favi di api però poi con il primarido d'estate i frutti restano piccoli e tendono a spaccarsi prima della maturazione e seccano allora sì ho capito quella è una situazione estrema cioè l'albero ha mancanza di acqua quando dovrebbe ingrossare e poi alla prima pioggia tende ad ingrossare i frutti si spaccano è una situazione estrema perché dicevo sì il melograno è frugale si accontenta però ci sono dei limiti a tutto la tua situazione si potrebbe correggere con un minimo di aiuto di apporto con pacciamatura e se possibile un po' d'acqua nel momento dell'ingrossamento perché quel melograno si comporta come gli agrumi gli agrumi che sono molto più delicati nel momento dell'ingrossamento o cadono o restano piccoli poi quando arriva l'acqua tendono ad ingrossare ma la buccia si è già inspessita non si dilata e quindi si spacca il fatto che tende comunque la pianta a diventare arbusto bisogna comunque eliminare tutti anche lì è una situazione di equilibrio che si vuole impostare allora se una pianta viene adelevata ad alberello come questa qui a sinistra va pulita sotto vanno tolti i polloni perché è già un alberello se quest'albero dovesse essere riportato a condizione di arbusto richiede molto tempo perché tutti i polloni che escono traggono rubano un nutrimento alla pianta che sta sopra e quindi vanno in competizione anche con i frutti molto spesso questo problema che mi ha accennato può essere derivato da una parziale modificazione della conduzione dell'albero cioè era un arbusto era un alberello sta diventando un arbusto i polloni vanno in competizione con i frutti né fruttifica bene né cresce sotto per andare in equilibrio ci vuole molto tempo molto tempo significa anche 10 anni dipende dalla velocità di crescita dalle condizioni in cui si trova la pianta è sempre il nostro solito problema dell'equilibrio che le piante devono raggiungere e la condizione di equilibrio richiede sempre tempi lunghi lunghi significa da 10 anni in su l'equilibrio per il prato l'equilibrio per la chioma richiede tempi lunghi quindi in quel caso si potrebbe provare per andare a un sistema pratico e attuabile si può provare di togliere i polloni ripulirlo togliere eventuali rami secchi senza fare potature di ritorno senza fare eccessive potature perché il melograno veramente non richiede quasi nulla come interventi sulla chioma giusto il secco va eliminato e provare vedere se si riesce a riequilibrare perché adesso tu passi da una situazione che sta andando verso una direzione di equilibrio e la sposti totalmente dalla parte opposta riequilibrare dall'altro lato riequilibrare dall'altro lato anche in quel caso non si ottiene in un anno ma devi avere dei tempi di ricaduta di circa 2-3 anni 2 anni almeno 2 anni ok quindi passare nella nostra forma c'è spuglio disordinata quello di alberello bello ordinato e pulito ci vogliono almeno due anni è come se la pianta è proprio così la pianta ci mette due anni a regolare il flusso della linfa attraverso il tronco non a far affluire più la linfa verso i polloni ma a spingerla sui rami portarle in alto e robustire i rami il primo anno si robustiscono i rami il secondo anno quei rami se si sono robustiti e sono efficienti cominciano a produrre gemme da fiore se c'è distanza e c'è luce se c'è distanza e illuminazione solare la competizione idrica non dovrebbe essere un problema è piuttosto un problema per tutte e due l'illuminazione ok aspetta attenta scusami microfono per favore se no c'è ancora una domanda per quanto riguarda il melograno nano se è messo in piena terra può tornare si può essere un ottimo ornamentale però subito il primo problema che può avere è quello di andare in competizione con le erbacee selvatiche perché ha la stessa dimensione dell'erba selvatica se lo si mette in un campo e ci si dimentica di quest'albero lo si perde in mezzo all'erba selvatica quindi va segnalato sempre con un bastoncino e va sfalciato almeno l'erba intorno a lui in modo da non essere seppellito però non è alimentare comunque no io li ho assaggiati i frutti sono aciduli possono essere mangiati non sono tossici non sono venenosi ma non hanno grande pregio perché i chicchi anche a loro volta sono molto piccoli sono piccoli i frutti restano sempre piccoli è una forma anana naturale ma molto piccola grazie prego non mi è stato chiaro se la forma di arbusto può essere produttiva la forma di arbusto diventa produttiva se allevi il tuo melograno dall'inizio appena lo pianti ad arbusto ci arrivi velocemente quello è un arbusto e diventa produttivo se viene lasciato crescere ad arbusto il problema si innesca nella modificazione della sua struttura se una volta viene uno che lo vuole fare ad arbusto e una volta viene l'altro che lo vuole ad alberello dove sto io ce ne sono una cinquantina diciamo lasciati a sé tutti arbusti ma nessuno fruttifica esatto sono ancora molto probabilmente molto probabilmente sono in condizione di squilibrio vegetazionale gli unici coperti dai rovi sono quelli che fanno i frutti è perché magari dove ci sono i rovi hanno creato un po' di umidità in più nel suolo i rovi hanno dato una mano ieri spiegavo a proposito del rovo l'utilità che svolge in natura per quanto riguarda il melograno dicevo il problema dei polloni è come quello dei polloni sull'ulivo il figo d'india non è un competitore per la luce perché non produce rami ombreggianti non ha neanche le foglie c'è solo le pale quindi tra i fichi d'india un melograno andrebbe bene sarebbe no 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 tra l'altro i fichi d'india hanno un apparato radicale superficiale cerca di beccare l'acqua quando raramente piove nel deserto o in zone semidesertiche invece il melograno se ne va a cercare in profondità oltre che in superficie possibilmente quando c'è quindi bisognerebbe cambiarci il tipo di allevamento allora con i tuoi melograni adesso sono diventati degli arbusti bisogna osservarli imparate sempre a osservare anche se non sembra di capirci niente osservate e riflettete osservate e riflettete all'inverosimile quasi da 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 immedesimarsi un po' nella natura e dire questa pianta guarda se ha i rami sommitali di quella che era anticamente l'alberillo se i rami sommitali sono vigorosi o se sono deperiti guarda se i polloni stanno ancora crescendo o si sono fermati te ne accorgi dalla quantità di foglie che c'ha l'albero dove ci sono molte foglie grandi l'albero sta crescendo con rami lunghi se le foglie sono piccole e spuntano dei rametti seccati c'è qualche problema in base alla condizione in cui si trova si può optare un intervento quindi ci vuole una buona osservazione e vedere cosa conviene di più addirittura in alcuni casi se la pianta ad alberello ha dei rami secchi è deperita e in condizioni veramente misere conviene tagliarla scegliere due o tre polloni migliori e allevare tutto da capo un'altra volta poi ripartendo da capo a tua volta sceglierai se vuoi quei due o tre polloni ad arbusto o ad alberello due o tre questi ne hanno 30-40 centinaia infatti ecco perché vanno sfoltiti oppure si taglia l'albero a vecchio se molto deperito in modo che i polloni crescendo avranno una situazione di equilibrio saranno tutti in uguale competizione tra di loro però richiede tempi di fruttificazione un po' più lunghi perché poi i polloni per andare in equilibrio sono tanti e quindi sgomiteranno a chi riesce a prevaricare sugli altri la alla fine diventerà qualche pollone farà la cima qualche altro pollone farà le branche e i rami superiori qualche altro pollone farà le branche e i rami inferiori quindi alla fine conviene lasciarne 6-7 6-7 sono troppi se vuoi portare ad alberello due o tre si dice Gianluca se vogliamo produrre frutta tranne a mio modesto avviso tranne le piante proprio tipo come le more quelle piante così le altre anche se si prestano ad essere un siepone o qualcosa del genere non ce la fanno a produrre magari ci vogliono 10 anni 15 anni ci deve essere un terreno fertile può succedere l'alternanza di produzione però se noi dobbiamo piantarli lo dico per chi deve fare il giardino per alimentarsi conviene sempre crescerli a pianticella ad alberello perché poi tra l'altro è più facile pulire sotto esatto vicino a un arbusto di melograno con tutti i suoi polloni e quello che ne consegue è complicato pulire è un po' più complicato non è la fine del mondo perché questa è una pianta spinosa quindi se si va con le mani l'intorno a tirare le erbacce è abbastanza brutto e se si va col decespugliatore si rischia di sfalciare anche i polloni la frusta del decespugliatore è micidiale basta che li sfiora e li decorteccia salta la corteccia e i polloni intorno cominceranno a deperire e cacciano altri polloni invece ad alberello è più facile controllare l'intorno della pianta oltre che avere frutti di migliorità ad alberello noi possiamo controllare a seconda del terreno che abbiamo se è un terreno arido oppure più fertile o meno fertile noi da come va la pianta il lussureggiare della pianta quello che dicevi tu abbiamo la possibilità di di regolare la chioma attraverso le potature in base a quello che è il potenziale l'energia quindi se abbiamo una pianticella che si sforza e lasciamo troppi rami non avremo frutti o al massimo frutti piccini se invece ci rendiamo conto è come il discorso che fanno i potatori antichi per la vite in base alla grandezza e alla robustezza del tronco del ceppo i tralci a frutto se ne lasciano due tre quattro sei addirittura uno solo però da quell'uno si potrà fare e questa è una cosa che volevo dire l'altra cosa che volevo dire che l'ho sperimentata io personalmente per il discorso che vi ho detto che i frutti maturano tutti in una volta poi c'è il problema che cadono tutti a terra per ovviare un po' a questa cosa io ho sperimentato personalmente che attraverso una buona conduzione di arido cultura con un certo andando a integrare con un po' di sostanza organica e quindi anche il discorso pacciamatura nelle piante più soggette queste piante moderne che hanno la bacca grossa bianca si può ovviare quel problema che arrivino tutti in un momento e cadono velocemente a terra e quindi puoi andarle a raccogliere aiutandole nei momenti iniziali di crescita di sviluppo del frutto se si ha la capacità la possibilità di andare a portare degli apporti idrici a quella pianta farà dei frutti più resistenti e che si matureranno in modo scaglionato in più fasi questo darà la possibilità sì di avere frutti in più periodi perché la pianta quando nasce già con uno stress idrico nel momento della moltiplicazione cellulare dei frutti induce già da quel momento una predisposizione alla maturazione se cresce come diciamo noi grassa oppure di salute ci saranno i frutti più grandi che matureranno dopo quelli più piccini dopo ancora e quindi si potrà fare anche la raccolta regolare quella che viene in natura cioè che man mano che maturano i frutti quindi abbiamo la possibilità innanzitutto di raccogliere utilizzarli tutti e poi di non attirare eccessivamente perché un conto che abbiamo una pianta di agrumio di melograno tutta matura tutta gialla che attira tanti frutti un conto che ce n'è uno ogni tanto non avremo mosceri bravissimo Gianluca ti ringrazio di questa precisazione tecnica molto dettagliata perché alla fine tu sei arrivato ad osservare a provare e a ottenere quei risultati che si avevano che dicevo prima quelle piante selvatiche una produzione scalare distribuita nel tempo e non una attrazione di massa addirittura io riesco con questa tecnica che l'ho scoperta per caso riesco a vendere le clementine di varietà precoce gliele vendono i commercianti che sono solo commercianti non appassionati dell'agricoltura gliele vendono come tardive e invece sono le precoci e vengono anche meglio perché siccome le varietà precoci hanno una buccia più ruvida non si assottiglia tanto facilmente e si attacca meno la cosiddetta serchia o muffa e gliele vendono e dice ma come fai a farle così che varietà questa tardiva io non glielo dico che è una precoce non è svelabile perché con questa tecnica ho verificato che nel tempo oltre a durare di più e ho scoperto veramente involontariamente questo vantaggio della buccia c'è anche il fattore che maturano ho perso il filo del discorso quello di no c'era un'altra cosa particolare che vabbè ah non si con questa tecnica qui non tendono difficilmente rispetto alle altre varietà precoci a svuotarsi di succo e a perdere il sapone quindi si conservano si conservano infatti alcuni dicono ma se tu hai la fedele si chiama così la varietà massimo a natale la devi raccogliere poi le porto a fine febbra dico queste sono la fedele ma non prendere in giro non ci credono ottimo Gianluca questa strategia quella che mi piace osservare dalle tue indicazioni e mi piace sottolineare è la tua pazienza la predisposizione e la volontà di stare lì ad osservare a guardare e a voler risolvere il problema coltivare piante coltivare orte e quant'altro non si può fare in modo frettoloso veloce tra una cosa e l'altra credo c'è bisogno di uno spazio di tempo scusami ancora un attimo quel tempo che dicevo ieri da mettere sul piatto della bilancia e dire quanto ne vale la pena e quanto tempo ho a disposizione tra le mie attività per poterlo fare lui lo fa a tempo pieno perché è l'attività principale e quindi la soluzione la deve trovare in un modo o nell'altro ed è bellissimo perché l'ha trovata con un sistema veramente efficiente e anche soddisfacente io credo io credo ma da un segno lo dico non ci credono lo stesso esatto volevo dire la stessa cosa magari tutti possono così propensi c'è volte dico sì c'è te lo dico no e tanto se non credi se non hai fede non capirai mai niente chi lo fa a livello obbistico chi comincia può essere un po' più propenso ma chi lo fa già da tanto tempo è come una pianta radicata nel suolo roccioso è difficile smuoverlo con la mentalità io voglio dire una cosa per aiutare i ragazzi in questa cosa che io diciamo per naturo perché i miei genitori i miei agricoltori i miei nonni da queste lezioni che sono interessantissime a volte pensare di ricordarsi tutto è un casino uno dice ma no ma come devo fare devo andare a vedere gli appunti io manco li porto insieme quello che è importante secondo me in queste lezioni è capire un metodo capire un modo di ragionare di osservare che poi andrà applicato di volta in volta a seconda delle piante a seconda dei posti è quello dove anche io vorrei sempre arrivare ogni volta anche nelle mie spiegazioni c'è darvi un metodo di ragionamento darvi l'arma il sistema per arrivare alla soluzione non si può propinare la soluzione come il caso dell'aspirina prendi l'aspirina e passa mal di testa mal di tendi tutto il resto appresso no è ragionare questo sistema è qualcosa che io l'ho preso casualmente dalla mia cultura condadina perché anche i miei nonni lo erano i miei genitori lo sono stati lo sono tuttora ma il fine di tutto questo è come quel vecchio detto che mi viene in mente di dire se qualcuno sta morendo di fame non portargli il pane ma insegnagli a coltivarlo allora insegnare a coltivare il metodo quello che noi cerchiamo il metodo può essere anche scambiare informazioni e fare degli incontri di questo tipo e confrontarsi questo è un metodo ragionare è un metodo la soluzione standard con l'etichetta e la tabella purtroppo non è sempre efficace nello stesso modo grazie Gianluca perché questa cosa mi fa piacere siamo in perfetta sintonia trovare un metodo un ragionamento che è diverso da persona a persona anche lì c'è la biodiversità dei metodi certo ma questo è un modo di progredire il suo metodo oggi è un metodo dove tutti gli sorridono intorno domani non ci vuole niente che diventa il metodo applicato a tutta l'agricoltura nazionale si cresce in questo modo perché l'agricoltura tradizionale è stata messa da parte dall'agricoltura moderna ma l'agricoltura moderna è arrivata sull'orlo di un precipizio ed è rimasta là troppi concimi troppi trattamenti troppo di quello troppo quell'altro perché le produzioni non aumentano a livello esponenziale come vorrebbero che fanno crescere le quotazioni in borsa le produzioni da un suolo da una terra puoi ottenere sì una crescita ma poi ha un plateau e poi ha anche la precipitazione ma il problema è ancora più profondo perché questo tipo di stile di vita di progresso economia è tutta una farsa capi? certo loro tutti quelli che noi che ragioniamo in questi termini o che cerchiamo il discorso della vita naturale sono avanti ecco perché gli altri non lo vedono quell'obiettivo non riescono a vedere capi? e pensano che gli altri stanno indietro invece il problema è che questo tipo di economia ha snaturalizzato l'uomo tant'è che cioè io ho ricevuto una telefonata un collega sempre a bestemmiare è un continuo bestemmiare dalla mattina quando si è stressati si perdono pure che so la recita del bambino a scuola tutto quanto quindi per fare un trattamento in più che non servirà a niente che solo firmare una cambiale per farne un'altra ancora ed è una una vita è fallimentare sia dal punto di vista economico che dalla qualità della vita benissimo è vero verissimo è Prato Prato è bravo e lui stai cercando sì stai cercando di far autoprodurre sostanza organica bravissimo infatti era il discorso scusami era il discorso dicevamo ieri aiutare la porta no 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 si può continuare perché non stai portando ai margini un discorso deleterio ma un discorso costruttivo piuttosto dicevamo ieri per sommare era quello di portare ancora qualche vantaggio con nuove piante erbace che fissano l'azoto come diceva ieri il trifoglio che si può seminare sì no non è necessario esserlo autoproduzione di sostanza organica certo no io voglio fare un'ultima perché state parlando è interessantissimo riguardo invece alle sostanze organiche il trifoglio a proposito del prato sotto potrebbe essere una soluzione certo perché questo trifoglio dicevamo ieri ha la possibilità di essere seminato sul prato germoglia senza interrarlo apporta azoto e con lo sfalcio l'azoto rimane nel terreno non è necessario per forza rimuovere perché l'azoto deve essere rimescolato e va bene sotto le piante in questo caso meno grano ma anche sotto altre piante da frutto tutte perfetto grazie le leguminose come questo trifoglio che ha la possibilità di germinare in superficie senza essere interrato è una pianta importante per la produzione di azoto e il fissaggio di azoto nel suolo nel suolo l'azoto entra un po' con difficoltà e quindi lo si favorisce portandolo con queste piante ok sì è un po' tardi sì andava messo in questi climi intorno a settembre poco prima di queste piogge abbondanti che ci sono state però un altro consiglio che verrà fuori anche dall'esperienza che stiamo condividendo è quello di provare nei nostri esperimenti con piccoli appezzamenti se hai un terreno adesso vuoi provare non fare tutto l'ettaro intero ma fanne solo una striscia segnati le condizioni climatiche il giorno la temperatura indicativa più o meno c'era il sole c'era il vento e vedi come va bisogna sperimentare la natura è bella perché è un campo sperimentale aperto a 360 gradi è meravigliosa però bisogna avere l'accortenza di segnare questi passaggi che noi facciamo per poter aggiustare il tiro l'anno prossimo sì tecnicamente è diverso ma chi ci dice che la primavera sarà un po' più piovosa e magari verrà aiutato dopo quindi proviamo altre domande? allora altre varietà in alto abbiamo il corbezzolo nel dettaglio la pianta nell'insieme e i fiori il corbezzolo è una pianta che può essere interessante i frutti non sono di grande squisitezza alimentare addirittura il nome latino lo chiama arbutus unedo unedo significa uno solo perché una volta che ne hai mangiato uno con quel sapore non te ne attira a mangiare tanto ma in realtà non è vero se sono ben maturi sono buoni e ne mangi anche più di uno e può essere utilizzato tanto di aspetti nel intorno al 1860 dopo l'unità d'Italia visto che era stata unita l'Italia e lasciamo stare come era stata scelta ed è stata scelta è rimasta tuttora ma poi è stato dimenticato questo fatto è stata scelta questa pianta come emblema nazionale d'Italia perché nello stesso momento come? corbezzolo stavo parlando del corbezzolo in alto questo qui è il dettaglio del frutto qui abbiamo l'insieme della pianta e qui abbiamo i fiori questa pianta mi riferivo al corbezzolo ancora è stato scelto come emblema nazionale d'Italia perché nello stesso momento della sua vita presenta i fiori bianchi i frutti rossi e le foglie verdi come il nostro tricolore o meglio verde bianco e rosso perché è una delle pochissime piante che ha la caratteristica di fiorire mentre sta portando la maturazione i frutti c'è da aggiungere che se uno vorrebbe essere puntiglioso c'è anche il giallo ma non lo consideriamo perché sono i frutti in fase in fase di maturazione quindi albera dell'emblema nazionale arbusto resistente sui suoli asciutti tipico della macchia mediterranea è una pianta che però ha un problema nel trapianto quando viene passata da un ambiente all'altro deve avere sempre il pane di terra intorno alle radici essendo una sempreverde come l'ulivo le conifere i pini e quant'altro deve avere il terreno intorno alle radici non lo si può tirare da un posto e infilarlo in un altro rischia di morire il momento migliore per queste piante della macchia mediterranea è l'inizio fine estate inizio dell'autunno le prime piogge autunnali c'è ottobre indicativamente adesso così l'apparato radicale continuerà a crescere già durante il periodo invernale tutte le piante sempreverdi andrebbero messe in primavera in ambienti freddi e in autunno in ambienti caldi nell'appennino su suoli argillosi gli ulivi vanno messi in primavera in ambienti caldi asciutti come questi con terreno ben drenato con la roccia sotto è meglio metterli anche in autunno perché così l'apparato radicale comincia a prepararsi ma questo lungo le zone dove non ci sono gelate quindi nella fascia degli agrumi se si va un po' più interno nella murgia nella fascia dell'ulivo o della roverella no è come nell'appennino bisogna aspettare meglio in primavera perché in eventuale gelata potrebbe rovinare l'apparato radicale che è tenero è esposto al terreno non è ben infiltrato negli strati profondi e quindi potrebbe essere rovinato perché poi viene messo in superficie da seme questa pianta viene riprodotta principalmente da seme per talea il rametto è un po' più complicato ci vogliono degli ormoni rizogeni pochissimi vivai lo fanno e lo fanno solo su alcune varietà particolari perché tra l'altro in corbezzo ci sono delle varietà più produttive a frutti un po' più grossi addirittura mi pare che ci dovrebbe essere anche una con le foglie più scure rosso scuro ornamentale quindi di solito si fa da seme e conserva bene le caratteristiche cioè prendi i semi i pianti sono piccolissimi ma le piantine che vengono che ne nascono non hanno bisogno di essere innestate perché saranno pressoché largo modo identiche alla pianta madre pressoché largo modo non è tutte perché c'è sempre la biodiversità e la genetica che fa modifiche è piccolissimo allora quando lo si mancia quei granelli sottilissimi che si sendono sotto i denti se lo mastichi quelli sono i semi sono molto molto piccoli credo meno intorno e mezzo millimetro però nascono perché io l'ho provato a fare vanno per seminare questa pianta allora si può fare così allora o si prende il frutto si lascia smaturare e poi si mette su un terriccio soffice terriccio per fiori in un vaso in un piccolo contenitore e sopra una sola una spolverata di terriccio sottile e poi uno strato di foglie praticamente abbiamo riprodotto la situazione naturale che lui da solo trova in natura cadono i frutti poi una spolverata di terreno giusto se c'è ma non sarebbe neanche necessaria perché questi frutti nascono nella macchia mediterranea dove si trovano a contatto con il suolo i frutti maturano e cadono in autunno in primavera cambia le foglie quindi le foglie vecchie cadono perché stanno uscendo quelle nuove le foglie formano una lettiera ricoprono il suolo e conservano l'umidità anche nella primavera durante il periodo caldo i semi sono già stati là durante l'inverno ad incubare a prepararsi e appena arriva il caldo germinano quindi un letto di semi è abbastanza semplice nei vivai forestali o quant'altro non mettono neanche la lettiera sopra compensano con l'irrigazione quindi strato di terriccio semi una spolverata di terreno sopra e poi si deve tenere costantemente umido con l'irrigazione e nascono un'altra tecnica un segreto adesso mi viene in mente e voglio tirare fuori è quello di chiedersi sempre è quello che qualcuno mi chiede ma quanto li devo mettere profondi i semi si fa così si ragiona in termini di dimensione del seme e di condizioni in natura e seme grosso una ghianda un seme di castagno lo interra qualcuno? no al massimo lo nascondono gli uccelli nel prato sotto i tronchi degli altri alberi tra le foglie e nascono se prendiamo un seme di castagno o una ghianda o un noce lo interriamo marcisce come anche l'ippocastano un albero ornamentale marcisce perché sta troppo a contatto con l'umidità già nel suo tegumento nei tuoi tessuti ha un grande quantitativo di acqua più quella che gli viene intorno dall'ambiente circostante il terreno marcisce sono semi grossi interrare e mettere sotto terra quindi basta anche due centimetri addirittura con i semi grossi perfetto e ti trovi bene perfetto è proprio quello che volevo dire i semi grossi vanno solo ricoperti di foglie gli altri semi vanno interrati con una profondità uguale al loro spessore mi sembra di fare una formula matematica ma va sicuro che è una sciocchezza un seme di ciliegio va profondo quando è il suo stesso spessore quant'è? mezzo centimetro mezzo centimetro sotto il seme di carota è meno di un millimetro va appena 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 spolverato un po' di terriccio un po' di sabbia sopra perché se va più in profondità non ce la fa nascere così anche il prezzemolo la cipolla hanno semi piccolissimi una spolverata appena appena addirittura a volte vanno lasciati solo sul suolo perché in natura non c'è nessuno che va a interrare questi semi rimangono sul suolo e sul suolo ci devono essere le condizioni idonee alla nascita della pianta perché poi innesca un meccanismo particolarissimo se un seme è nato in un posto significa che lì ci sono le condizioni idonee anche farlo crescere se il seme nasce e non cresce significa che era meglio così perché non può essere in natura che si fa crescere qualcosa che poi muore dopo gli alberi selvatici spontanei diventano grandi perché hanno trovato tutte le condizioni dal seme fino al grande albero erano tutte favorevoli se varia una condizione l'albero finisce di crescere e non se ne accorge nessuno per la nostra piantina è tutt'altra storia perché ne abbiamo una è tutta curata è tutta coccolata e le condizioni i parametri gliele andiamo noi a controllare intorno la stevia so che si fa per talea ok allora finisco solo con questa foto a proposito del melocotonio ne avevamo parlato sotto c'è il melocotonio ma se ha una forma lunga e viene chiamato anche perocotonio ma la specie unia è sempre sidonia oblonga varietà piriformis a forma di fera varietà maliformis a forma di melo e ci sono di tante dimensioni di tante varietà per i terreni aridi asciutti come questi è consigliabile usare varietà a frutto piccolo frutto piccolo comunque significa grosso come una mela perché quel cotonio gigante ha dei frutti esagerati arrivano anche a 600-700 grammi e non c'è bisogno di avere un frutto da 600 grammi basta averne tre da 200 la potatura si può aggiustare però è un intervento molto particolare che io consiglio a chi è già un po' di esperienza altrimenti si rischia di fare danno a volte con la potatura poi ne parleremo è meglio non intervenire piuttosto di fare danni ok mi dicono di fare una pausa e riprendiamo tampone a chi è già un po' di esperienza 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 Grazie a tutti.